Si terrà il prossimo 14 dicembre il Consiglio Comunale di Agropoli in seduta ordinaria di prima convocazione presso l'Aula Consiliare del Comune di Agropoli alle ore 16 per la trattazione dei seguenti argomenti. Approvazione dei verbali della seduta del 30 ottobre, approvazione dei verbali della seduta del 30 novembre, variazione del bilancio di previsione armonizzato 2020-2022 adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale con deliberazione 240 del 6 novembre 2020, ratifica variazione del bilancio di previsione armonizzato 2020-2022 adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale con deliberazione 265 del 30 novembre 2020, ratifica, assestamento generale del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2020-2022, articolo 175 del Tuel e salvaguardia degli equilibri di bilancio, articolo 193 del Tuel. Ed infine l'ultimo punto all'ordine del giorno, riconoscimento cittadinanza onoraria al milite ignoto. Qualora tale seduta dovesse andare deserta, il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria di seconda convocazione presso l'Aula Consiliare del Comune di Agropoli il giorno 15 dicembre alle ore 16 per discutere lo stesso ordine del giorno.